Non sono emerse particolari novità dal vertice di ieri presso il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico in merito alla delicata avvertenza Blutec, se non il fatto che per la prima volta hanno partecipato delegati di tutti gli stabilimenti italiani. La vicenda viaggia su due binari, quello strettamente lavorativo legato al destino di 230 dipendenti circa solo allo stabilimento della Val di Sangro e quello giudiziario dopo gli arresti dei vertici aziendali in attesa della decisione della Tribunale del Riesame di Torino. Intanto garantisce il lavoro ordinario all'amministratore giudiziario che perlomeno non fa mancare il pagamento regolare degli stipendi. A Medio Nanni, Darafiam Cisla ci fa un sunto sull'incontro di ieri a Roma. Nel primo momento della riunione l'amministratore giudiziario ha spiegato ciò che ha fatto in questo mese di regenza garantendo gli stipendi a tutti i lavoratori e cercando di tenere rapporti con i fornitori per una continuità. Il Ministero è intervenuto con gli ingegneri presenti cercando di dare anche supporto a tutti i territori perché ieri erano presenti lì, non solamente rappresentati dello stabilimento di Atessa ma bensì di tutto il gruppo Blutec, compreso anche Termi Emerese che sta vivendo una situazione completamente differente rispetto a noi perché noi le commesse ce le abbiamo in quanto questo stabilimento lavora ovviamente per Sevelle. Sevelle sappiamo benissimo che a breve deve cambiare anche turnazione quindi potrebbe essere un slancio ancora maggiore per questo stabilimento in vista di una possibile crescita. Dicevo che siamo preoccupati perché ieri risposte concrete non ce ne sono state. L'amministrazione giudiziario che al momento continua a seguire lo stabilimento per altri 20 giorni dopodiché attendiamo il Tribunale di Torino che dovrà pronunciarsi nel merito perché è anche possibile che la vecchia proprietà riprenda possesso dello stabilimento. Noi ci auguriamo di no perché fin quando c'è l'amministrazione giudiziario almeno l'ordinario lo sta facendo e lo sta facendo anche correttamente garantendo lo stipendio come dicevo prima a tutti i lavoratori ma anche per un altro motivo perché se continua l'amministratore a seguire la vicenda entro sei mesi comunque ci dovrà essere per legge un piano industriale per tutto il gruppo e quindi uno sviluppo anche per questo stabilimento. Tra l'altro c'è il discorso dei nuovi acquirenti IMA e Ingegneria Italia che fino adesso hanno avuto problemi a relazionarsi con i vecchi proprietari della Blutec potrebbero avere un lavoro più agevolato con l'amministratore giudiziario? Sicuramente sì perché fine oggi c'è stato questo avvicinamento ma la vecchia proprietà ha tenuto sempre nascosto la documentazione in merito alle richieste di IMA. Oggi invece c'è l'amministratore giudiziario che comunque ha l'obbligo di legge ma ha anche il dovere di far vedere tutta la documentazione possibile ai nuovi acquirenti. Quindi ha ribadito anche ieri nell'incontro che c'è stato che è in contatto con gli avvocati di IMA e quindi si spera veramente una risoluzione positiva della vicenda. Insomma 20 giorni ancora di passione? Sicuramente sì, purtroppo sì. Domani ci sarà un'assemblea all'interno dello stabilimento dove le RSU e le organizzazioni sindacali spiegheranno questa vicenda. Speriamo che si concluda possibilmente per tutti quanti. Sugli scenari futuri preoccupazione anche da parte della FIOM CGL. Andrea De Lutis, segretario provinciale Galileo Troiano, RSU Blutec, anche gli della FIOM. Purtroppo i fatti giudiziali che hanno convolto il gruppo Blutec e quindi anche quello stabilimento di Atessa hanno sancito il fatto che siamo tutti adesso sulla stessa barca nonostante qui ci sia lavoro ma il fatto che oggi c'è questa condizione giudiziale la sopravvivenza di questo stabile è direttamente legata a quella degli altri stabilimenti. Tutto dipende in qualche modo da quelle che sarà la decisione dei giudici della Tribunale di Torino, ci sembra di capire da quella sentenza si può in qualche modo ripartire? Certo, oggi ci troviamo in una condizione c'è un commissario giudiziale che sta gestendo l'ordinario quindi per fortuna adesso le aziende comunque continuano a produrre ma non ha libertà di azione. Nei prossimi giorni si terrà il riesame della situazione per ora sono stati scarcerati dai domiciliari l'amministratore delegato e la proprietà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni anzi si dovrà capire anche se queste persone avranno la possibilità di ritornare sui loro posti oppure il Tribunale dovrà decidere se ci dovrà essere anche un commissariamento straordinario in modo da poter anche fare delle azioni perché questi stabilimenti oggi aspettano anche azioni e ci sono necessità e per questo abbiamo anche l'urgenza che sia le istituzioni che la stessa FCA che comunque è legata a questo stabilimento ci diano manforte a far sì che questa situazione vada a progredire in maniera positiva. Ricordiamo infatti che la BluTech è un indotto importantissimo della SEVAL. Galileo Troiano gli acquirenti, Ingegneria Italia e MA restano in qualche modo in una forma di attesa ma qui all'interno di questi stabilimenti com'è la situazione e le preoccupazioni dei lavoratori? La situazione è molto tesa all'interno dello stabilimento anche perché non abbiamo certezze di nessun genere avevano garantito la cessione a MA del gruppo Magnetto che si doveva concludere entro febbraio poi è arrivato marzo, poi è successo il discorso degli arresti e di tutta la situazione e logicamente Magnetto ha fermato tutto il discorso ma il commissario ha detto che è ancora in contatto con l'avvocato di MA ma noi non abbiamo certezze e di conseguenza si vive in un periodo molto strano perché con tanto lavoro siamo preoccupati per il lavoro Tanto lavoro l'amministratore giudiziario in qualche modo vi dà tranquillità ma sono le prospettive quelle che preoccupano maggiormente a questo punto la sentenza che dovrebbe arrivare al Tribunale di Torino tra 20 giorni dovrebbe in qualche modo fare chiarezza? Aspettiamo quella anche perché nel frattempo non si sa con chi parlare non si sa qual è il nostro tramite noi vorremmo trattare un discorso vorremmo avere risposte ma con il commissario giudiziario prendiamo gli stipendi giustici stiamo facendo anche dei lavori di manutenzione importanti dentro l'azienda però è una tranquillità che lascia il tempo che trova in questo momento perché tempo un mese non si sa che cosa succederà Intanto domani l'assemblea con i lavoratori per cercare di fare un quadro della situazione dal vostro punto di vista sono più le preoccupazioni? c'è più ottimismo, pessimismo? Allora domani sì sarà un appuntamento importante perché riporteremo ai lavoratori quello che ci siamo detti quello che abbiamo ascoltato più che altro nella conoscenza del commissario ieri al mese certo non è un momento dove possiamo essere né pessimisti né ottimisti viviamo in un momento di stabilità preoccupante però purtroppo sarà importante nelle prossime giornate spero che riusciremo a far capire questi lavoratori che dovremo mettere in campo anche delle azioni per far puntare la lente di ingrandimento su questa situazione per far sì che sia le aziende legate all'industria ingegneria Italia che le istituzioni locali ci diano manforte a portare a risolvere questa azienda cioè a risolvere i problemi di questa azienda e noi qui abbiamo forza perché serviamo un'azienda importante quella che oggi è la maggiore azienda della nostra regione Galileo Troiano c'è un altro rischio però è che la situazione ad esempio molto più drammatica dei termini merese faccia in qualche modo da effetto trascinamento al contrario c'è la possibilità una seria possibilità che succeda anche perché se dovesse andare in fallimento tutta la situazione di termini merese porterebbe giù tutto il ramo blu teco con tutte le varie aziende sparse in Italia e questo sarebbe gravissimo ma là dovrebbe intervenire più la politica che dovrebbe avere come interlocutore Fiat perché fondamentalmente è Fiat che è legata a doppio filo a questa storia perché sappiamo benissimo che il nostro proprietario Ginatta è in società con diverse società con Andrea Agnelli con tutta la situazione quindi se Fiat vuole può risolvere la situazione secondo me altrimenti la situazione non si risolve quindi FCA è il grande manovratore di tutta questa situazione assolutamente sì Grazie.